bella a tutti ben ritrovati lei la presentazione è Fefe e lui è Cucco abbiamo cambiato nome abbiamo cambiato nome al canale ma i nostri nomi teniamo sempre i soliti e più che bella direi buonasera ormai sono le 6 e nulla oggi vi porteremo in un piccolo daily vlog 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 e faremo un piccolo video andremo a fare un giretto e nulla vi vogliamo portare con noi una cenera e spero che vi piaccia il giretto in compagnia continuate a seguirci iscrivetevi al canale mettete su qualche pollicione per sostenerci se avete richieste fatele pure che ci date una mano appunto a crescere anche tanti consigli su come possiamo migliorare e quant'altro richieste fatele pure se volete vederci fare qualche video nuovo qualche esperimento qualche live e anche qualche challenge e con questo vi auguriamo contenti scusa se ti blocco noi saremo contenti se lo fate perché comunque ci aiutate a crescere molto di più e intanto ringraziamo tutti coloro che ci stanno sostenendo inizia ad andare stai larga ok il mio sedile si era spistato aggiornamento aggiornamento importantissimo adesso stiamo discutendo di essere gelosi delle proprie cose oppure no e lei mi sta dicendo che da piccolina regalava i suoi giochini alla sua cuginetta no e poi dopo si lamentava perché li rivoleva piangevo allora allora il discorso è non puoi regalare una cosa e poi rivolerla poi ti sta dicendo il sensore la cambia marcia perché sei a 30 all'ora è come se io adesso prendo la macchina vado da uno e dico te la regalo usala in testa e quant'altro poi domani lo richiamo no ci ho ripensato e la rivoglio tipo piangi perché la rivoglio veramente piangevo di brutto perché rivolevo i miei pupazzi quanti anni avevi? 18? no no ma va ero piccolissima è piccolissima cioè? sì dai 5 anni 4 anni tipo anche un pochino più grande c'era già mio fratello la mia cugina gli piaceva un un pupazzo e gli dicevo tu tieni te lo regalo e mia madre no no glielo devi regalare non regalarglielo e io glielo ho regalato lo stesso poi lo cercavo lo cercavo lo cercavo lo volevo e l'hai dato a tua cugina io sono proprio matta salve vuoi che passeggiate? perché tu non hai mai regalato e ti occuparsi no io no io da piccolo condividevo le caramelle anche la cari e le cari era un'altra cosa era il pacchetto plus ultra ma le caramelle sono buone quindi ne vado ma la cosa strana cioè la cosa diciamo disgustosa essendo che magari ne avevo poche no mia mamma mi diceva cioè mangiale a casa non dalle ai tuoi amichetti poi avevo il mio migliore amichetto vicino di casa allora io cosa facevo mi ingozzavo le mettevo tutte in bocca no? poi uscivo e cosa facevo me le risputtavo e gliele davo anche a lui no dai amore fai schifo scusami e niente condividevo così le mie caramelle non ci credo si oddio infatti io non me lo ricordo me lo ha raccontato mia mamma qua a destra cioè sono rimasto un po' anch'io così che non è una cosa bellissima è un po' disgustosa però sai sia bambini e lo fai si e nulla condividevo le mie caramelle anche i giochi poi me li rompevano e piangevo mia mamma mi diceva non portare fuori i giochi che te li rompono e niente uscivo con 20 macchinine e tornavo con le ruote non facevo qui niente ci credo e adesso si magari condivido un caffè al lavoro caramelle no 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 il caffè si mentre le caramelle non le condivido più vabbè dai le condividi con me però si ma non giucciate no ovviamente no perchè non le mangerei ancora da scartare ancora da scartare preferisco quella da scartare dai siamo quasi arrivati adesso ci parliamo ho detto qual è il remorso facciamo il parking qui a destra andiamo su facciamo un po' di parking ma dici che troveremo un posto si qua vuoi una pozzanghera fontanella la mini piscina ecco more fatti un bagnetto dai no no vai tu prima eh non ho portato il bagno schiuma qua abbiamo un fossicciattolo un fossicciattolo ah ok un fossetto ok non avevo capito dell'acqua ok acqua acqua prova a berla no no diventi giovane mhm ti puoi mutare ok che cosa non lo so in una farfalla si va bene poi spicchi il volo e ciao mhm dovrebbero tagliare l'erba mhm eh vabbè eh tra un po' lo taglieranno in settimana penso allora ecco a voi una strana sottospecie di animale non ancora scoperta dagli scienziati è un incrocio eh scogliatolo eh ora che lo vado a riprendere amo si fa natale eh rincu eh è un tuo simile corri no è un tuo simile no no ma porti gli occhiali ma sei cretino ora scogliata flusso se mi metto a correre svengo me lo porto a casa le voglio anch'io eh se almeno ti morde stavano dicendo una strana specie di Homo sapiens è un incrocio tra un trichieco e un fagiano il triccafagiano dov'è? là! oh ma sei cieco? ci sono mille cose verdi non lo distingo guarda che c'è là! là dritto! ah dove c'è l'albero? si proprio dove c'è la stradina segui la strada se non fare come io ho anche zoomato io non lo vedo magari è scappato mi sa tanto di sì mi fa anche zoomare per niente vabbè torniamo al discorso per gli scienziati la macchialina lì sì ma ora che lo riprendo si c'è la fermo il zoom si vede male ma non puoi far zoomare così tanto eh sì cotechino sei un cotechino poi ci sono io che anch'io sono comunque ero un coniglio l'hai fatto? vabbè l'hai fatto? gli ho tolto gli occhiali però l'hai fatto? brutta risata che c'hai l'hai fatto? sembra un po' seduta l'hai fatto? l'hai fatto? l'hai fatto? l'hai fatto? si l'hai fatto? anche io lo voglio lo voglio tutti gli animali tra i ragni sono i tuoi amici preferiti si perchè lei è arachnofobica per chi non lo sapesse perchè anche io l'ho scoperto tardi cosa significasse ha paura dei ragni da quanti anni siamo insieme? sei anni no non sapevo cos'era una persona arachnofobica l'ho scoperto a scuola pozzanghera ho visto e ci separiamo ciao arrivederci ecco la pozzanghera faccio come Alice si ciao coniglio ciao amore quanto si prende? l'ho ripreso? non lo so cosa sto riprendendo aspetta ferma eccolo lì ecco che ciao amore coniglio coniglio ciao coniglietto ecco a voi il coniglio il coniglio di bambino sono riuscito a inquadrarlo ed eccola a voi nell'inquadratura bel coniglietto ciao tamburino vi ho dato pure il nome hai visto? tamburino tamburino ciao mamma ma che bello sei ciao è scappato è andato da Alice coniglio coniglio l'avete visto il parco è questo qui adesso facciamo inquadratura a 360 gradi ecco gli alberi ragazzi proprio centro psichiatrico qui c'è Cocova bisogno di aiuto cos'è il nuovo telefono? si è un telefono un po' grande meglio dell'iPhone questo qua basta che schiacci qui vedi fa la chiamata più bello quello con la scarpa adesso non mi metto la scalpa nell'orecchio e niente il giratore l'abbiamo fatto abbiamo cambiato un po' l'aria poi di solito veniamo qua per rilassare la mente è tranquillo è bello, è tutto verde non è caotico e poi in casa sinceramente dopo un po' uno si rompe perché alla fine facciamo tutta settimana casa lavoro casa lavoro il sabato stacchiamo un po' quindi ogni tanto siamo al parco o giriamo giriamo, giriamo non è mai programmato quello che facciamo nel senso che arriviamo a venerdì e poi qualche esce saluta salve salve e niente adesso siamo sul ritorno di casa my home giri 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 oh oh ma non so ah guarda che capperone c'è non è vero bugiarda pulisci il naso ah che ti ha nato conigli si amore sei un parco è logico ci sono i conigli ci sono i topi i criceti i castori guardate te ci sono io tu sei un castoro tra un po' ci sono anche le aquile stambecchi cornagion sarebbero le cornaglie si c'è qualcuno che ti ha affestato è arrivato l'altro era morbido il fango morbidissimo guarda comunque le scarpe lì come se poi cioè notare che comunque questo non è un piede ma nessuno gliene frega niente del suo piede è un tranquillo in mezzo dentro nel fango è un calcino in macchina dei signori eccola qua un calcino biondo cenere no è biondo adesso tu sei biondo cenere no io sono nero sono scuri devo zoomare e metterla a fuoco e a luce far vedere che è biondo cenere allora una giornata signori finisce qua siamo a ritorno a casa adesso andiamo a mangiare mangiamo e si guarderà un po' di tv si rilassa si dorme domani mattina è un altro giorno suspense grazie della compagnia grazie delle visualizzazioni per tutti coloro che ci stanno iniziando a seguire che ci sostengono grazie anche che hai commentato i video soprattutto i like e i commenti e come abbiamo ripetuto anzi ripetiamo avendolo già detto all'inizio se avete richieste proposte per farci fare qualche video non so qualche challenge particolare qualcosa che vi interesserebbe vederci fare anche qualche sfida non so magari qualcosa ah ne hai detto scusa non ti ho ascoltato mi rispetto un attimo il cervello e scrivetelo pure nei commenti rimanete sintonizzati One Nation One Station e ci vediamo alla prossima con una nostra nuova avventura un saluto e un abbraccio da Pepe e Coco ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti